E' proprio qua subito a me! Sì! Guarda ragazzi, guarda qua ragazzi, guarda qui! Perché noi invece che facciamo? Sì! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 5 anni fa. Quando qui c'era la parabolica non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. C'era la parabolica non c'è più. Qua c'era un saltino. Si sa qua la discesa. Ok. Ahia ma sono stracciata proprio. Eh? Ahia. Ma qua sono tutte spine. Il problema è. Eh? Sono tutte spine. Eh. Aspensione. Non le spine a sacco. eh ragazzi dobbiamo scendere per forza di qua ora siamo arrivati al Bibbia non vi preoccupate vi siete? hai fatto il filmato? si Franci quello che praticamente tra ruote di nuovo a terra eh lo so e questo è Freeride adesso è un po' estremo come prima ecco le rocce ragazzi Freeride oh no qua non vedo niente ragazzi adesso devi andare di là vatti a sinistra a sinistra però devi stare attento ma non va a sinistra? a cazzo no no a sinistra si di qua ma si stica la baccia da qui eh no ma qua ci sta il coso qua vedi? non ho visto lo scaletto aspettate ma era questo il single track si 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 qua adesso c'è un altro Enzo attenzione qua a sinistra eh ci siete tutti? si non ho visto ci siamo si esatto si si aspettate eh Sì, è molto bello, è tutto bene. Vai, vai! È bello invece perché ha un grip fantastico su tutto. Oh no? Non è come le pietre... Vai! Ha un grip... Ma non è bello, stritto, stritto. Sì, l'ho bello. No, è un consiglio. Ci passiamo giusto, giusto con la vicinetta della persona. Io ci sto, eh! Chiede, eh! No, vai un po' più a mano. Ci siete? Sì, sì. Sì, sì. Peccato che non... ...non mi ricordo dove sta... E' qua, questo è questo, proprio questo, questo è bello perché si poteva fare capito, Enzo, questo è bello, aspetta un attimo, aspetta Enzo, non muovete, vai, vai, ok, gira, gira a destra. Stai proprio a sentire, vai Enzo, vai, ma sta proprio, la radice è qua, che ha proprio le facce, oh, E' questa era, noi uscivamo là però con la stagna normale dei castagnari, questa è la cosa un po' più ripida, Vabbè ragazzi comunque, agnone e castagnari, astrone e castagnari, potremmo anche vedere di beccare il ritorno dentro all'ultimo pestello.